Mi chiamo Melissa, ho 18 anni, l'ho compiuti da poco, frequento il liceo psicopedagogico ad Avezzano, il quarto anno. La trovo una cosa molto interessante, mi è sempre piaciuto sin da quando ero piccola, sfilare, fare le foto. Ho partecipato qualche anno fa ad una sfilata nella scuola per Miss Istituto e ho rappresentato le magistrali. Io ho un sogno nel cassetto, sarebbe quello di entrare a far parte del mondo della moda e se non ci riuscissi andrei all'esercito, come a intraprendere la carriera militare. Qualche anno fa facevo parte degli scout, quindi mi piaceva molto uscire a fare delle gire in montagna. Quindi mi appassiona questa cosa dell'arma, delle escursioni fuori. Il mondo della moda, lo trovo un mondo molto interessante, nuovo, pieno di avventure. Forse vado all'università e prendo psicologia, se non entro nell'arma. So che forse non arriverò alla vittoria, però l'importante è partecipare. Loro non sanno nulla perché io partecipo. Ho deciso di tenerla come una cosa mia, di non dirla a nessuno. Giusto a casa la sanno. Mamma è contenta, papà pure però è un po' più distaccato dalla cosa. Mamma è contenta, papà pure però è un po' più distante.